Per il giubileo del 2025 sono previsti 35 milioni di arrivi turistici in Italia, per complessivi 105 milioni di presenze, con una spesa di 16,7 miliardi di euro. Per le Olimpia di Milano-Cortina sono previsti 513 mila arrivi, più 34% rispetto allo stesso periodo del 2023, per 1,8 milioni di presenze e una spesa turistica di 281 milioni di euro. È quanto emerso da un incontro organizzato da Union Camere e l'Istituto Nazionale Ricerche Turistiche. In Italia nel 2023, secondo i dati elaborati dall'Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio, sono state registrate 852 milioni di presenze turistiche, 41% delle quali rappresentate dai millennial, 28-42 anni, che si confermano la componente principale della domanda. Le presenze hanno premiato principalmente città d'arte e cultura, mare e montagna, 16,6%. L'Osservatorio ha inoltre misurato l'evoluzione delle principali motivazioni di viaggio nel periodo 2012-2023. Il trend in crescita vede la cultura confermarsi per il secondo anno al primo posto, l'enogastronomia passa dall'undicesimo al quinto posto e gli eventi dal diciannovesimo al dodicesimo posto. Quest'ultima voce è capace di attrarre oramai il 6,5% dei flussi turistici, in particolare nel target ad alta spesa.